Antonio Fico e Giovanni De Rosa, ex di Federica Petagna del GF, hanno fatto una diretta social dove hanno spiegato come la ragazza sia riuscita a frequentare entrambi senza farsi scoprire. Ecco le loro parole. Antonio ha detto, adesso ti spiego perché ieri non mi hanno fatto parlare. Federica si sentiva con Stefano e me lo teneva nascosto. Mi diceva, io non so quello che voglio, ma non voglio perdere te. La prima uscita io ho preso un'ala privata di una discoteca per darle privacy e siamo stati insieme. Il giorno dopo siamo stati insieme nuovamente in un bar e ci siamo ribaciati. Poi è venuto Giovanni il venerdì successivo. Siamo andati a ballare nuovamente. Federica prima di andare a ballare mi ha chiesto, non parlare di noi con Giovanni, perché lui è amico stretto di Stefano e non voglio che lo venga a sapere. In pratica facevo l'amante, sono scioccato, c'è da mettere insieme i pezzi del puzzle, ha affermato, esprimendo confusione e frustrazione. Giovanni ha invece spiegato. Ad Antonio diceva, non farti vedere con me da Giovanni, perché lui è amico di Stefano. Invece a me diceva, io non posso farmi vedere con te da Antonio, perché lui è innamorato di me e mi corteggia. Ed eravamo tutti insieme nella stessa discoteca. Poi mi ha dato un bacio nei bagni del locale e poi è uscita fuori con Antonio nella stessa serata. A me una che fa così a 20 anni fa paura. Io ho tutte le conversazioni salvate. Quella stessa notte è stata con tutti e due.